Il laterizio è il materiale sostenibile, è il materiale sostenibile perché porta con sé una storicità e non vogliamo parlare di come gli egizi romani costruivano i loro edifici ed è un materiale che si produce dalla terracotta. Può essere un materiale che è sostenibile solo se è collegato a processi industriali che lo rendono tale. Gli edifici oggi devono essere sempre meno energivori e il laterizio è un materiale assolutamente adatto per poter raggiungere l'obiettivo di un edificio a energia quasi zero. Il laterizio, essendo un materiale sostenibile, porta con sé caratteristiche di artigianalità, di benessere abitativo ma anche deve essere sposato a un livello tecnologico adeguato in modo tale che sia un materiale perché i nostri progettisti, i nostri costruttori possono realizzare un benessere abitativo per chi andrà ad abitare le case che noi contribuiamo a costruire. Pensate che solo nel 2015 il gruppo Wienerberger ha contribuito a realizzare quasi 150.000 abitazioni tutte con caratteristiche dovute al risparmio energetico. Il laterizio è un materiale da costruzione, noi parliamo di soluzioni per l'involucro, stiamo anche parlando di qualcosa che è la carrozzeria della nostra abitazione e come carrozzeria è anche assolutamente un materiale tecnico e adeguato a fornire soluzioni ai progettisti che siano a norma di antisismi. La certificazione dei materiali da costruzione è assolutamente fondamentale, è la carta d'entità della veridicità di un prodotto. Wienerberger si è dotata nel corso degli anni di una serie di certificazioni assolutamente importanti, che sono tra l'altro la certificazione OH SAS 18.000 sulla sicurezza dei lavoratori, l'anno successivo ci siamo dotati della ISO 14.000 quindi sulla certificazione ambientale, obiettivo per il prossimo anno perché siamo in sempre e contiene evoluzione sarà la certificazione 50.001 sulla riduzione del consumo energetico nei sistemi produttivi. Una delle certificazioni delle quali andiamo più orgogliosi è la certificazione LEAD che significa Leader in Energy and Environmental Design e grazie a questa certificazione per i sistemi sostenibili che utilizziamo nella produzione dei nostri prodotti abbiamo partecipato alla costruzione dell'eco grill sulla Milano Laghi che è uno dei fiori all'occhiello dei nostri sistemi. La Terizio ha in sé una storicità assoluta che porta con la tecnologia che i produttori di La Terizio riescono a mettere oggi nei nostri sistemi a un edificio veramente con elevati livelli di benessere abitativo. Benessere abitativo che si ripercuote nella facilità di progettazione dei nostri materiali, nella veridicità tra quello che è il progetto e la fase di esecuzione del sistema, nella facilità di manutenzione dell'edificio durante la vita e soprattutto in quello di riuscire a raggiungere gli obiettivi per i quali il progetto è stato realizzato. E non dimentichiamoci in ultimo della durabilità che la Terizio si porta dietro. Basta vedere gli esempi delle costruzioni in tutta Italia e in tutta Europa per capire che questo è un materiale che non è uguale da questo punto di vista.